Iniziamo subito dando la parola per i saluti istituzionali e il mio presidente, il dottor Francesco Generetti, presidente dell'Ordine degli Autori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo. Grazie, grazie signor. Buongiorno a tutti. A nome mio personale e dell'intero Consiglio dell'Ordine degli Autori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo, che ho l'onore di presiedere, vi do con grande emozione il benvenuto in questo meraviglioso teatro, il nostro meraviglioso teatro, in occasione dell'ormai tradizionale convegno che il nostro Ordine organizza in tema di crisi di impresa. Numerose sono le persone che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto. Numerosi sono quindi i ringraziamenti che mi sento di fare. iniziando, naturalmente, dalla Fondazione Donizetti e dal suo presidente, che è riuscito a trovare due date all'interno di un calendario che era già fitto di evento. Ringrazio i ragazzi di sito interattivo, a cui abbiamo dimandato la segreteria organizzativa dell'evento. Ringrazio gli enti e le associazioni che ci hanno concesso il patrocinio. Ringrazio gli sponsor a tutti. Senza alcun contributo, ben difficilmente saremmo stati in grado di organizzare l'evento di questa portata. Ringrazio tutti i relatori che, anche quest'anno, hanno reso disponibile il loro contributo. E ringrazio, naturalmente, tutti voi partecipanti, perché, come diceva Simona Ocanzi, non era scontata una presenza così numerosa, sia pure a fronte dell'attualità e dell'interesse dei temi trattati e della qualità dei relatori che si alterneranno sul palco. Ringrazio, infine, la nostra segreteria, la segreteria del nostro ordine, per l'impegno con cui ha dedicato la propria attività anche in questi ultimi giorni. E consentitemi, infine, un ringraziamento affettuoso a Simone per l'impulso e per la passione con cui ha dato energia alla struttura organizzativa di questo evento. Mi auguro di non aver dimenticato nessuno. In caso contrario, facendo scusa sin da ora. E auguro a tutti voi buona giornata e buon lavoro. Grazie. Bene, continuiamo con i saluti. Chiamo a porgere le proprie saluti il dottor Stefano Distilli, presidente Cassa di Previdenza dei dottori commercialisti. Buongiorno a tutti, è un piacere, un onore e un onere essere qui in questa splendida cornice, con questa, come sempre, impeccabile organizzazione a porgere un saluto cosiddetto istituzionale. Quindi è un onere perché riuscire, come sempre, in un tempo limitato a dire qualcosa che non va a noi e che non rubi il tempo ai lavori che hanno poi la parte importante di queste giornate, è difficile. Devo dire che, appunto, ieri sera alle due, quando siamo arrivati da tutta altra parte dell'Italia, ho trovato il compito già risolto perché, entrando in camera, ho trovato il biglietto di benvenuto dove c'era una semplice frase che credo raccolga tutto. L'istruzione e la formazione sono le armi più potenti che si possono utilizzare per cambiare il mondo. Di Nelson Mandela. Non voglio volare alto dove Nelson Mandela, assolutamente, ma credo che la stessa chiave di lettura valga per la nostra professione. E sono questi i principi che, come Cassa, dottori commercialisti, con il mio consiglio di amministrazione e tutto il lavoro che stiamo facendo, condividiamo pienamente e credo che occasioni come queste siano proprio l'esempio migliore di cosa vuol dire fare formazione e fare evoluzione della professione, fare sinergia con gli altri soggetti con cui dobbiamo imparare sempre di più ad interlocuire, mettere a frutto le esperienze migliori della nostra professione. Quindi credo che esempi come questo, diciamo, ci portino sulla giusta strada. Noi, come Cassa dottori commercialisti, cerchiamo di mettere in campo, al di là delle nostre attività istituzionali, anche proprio interventi che vadano in questa direzione e che incentivino questo percorso per tutti noi. E quindi ringrazio, diciamo, l'organizzazione, ringrazio il Presidente dell'Ordine, ma soprattutto Simona, come sempre, per il grande lavoro che fa ed è un piacere, come dicevo all'inizio, perché vedo tanti colleghi, ma soprattutto tanti amici. Quindi buon lavoro a tutti e mi siedo ad ascoltare con attenzione gli avori. Chiamiamo per i saluti il Dottor Cesare De Sato, il Presidente del Tribunale di Bergamo. Grazie. 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 l'ordine dei commercianti con questa grande opportunità di confronto che arriva in un momento in cui la stagione di passaggio ci crea una serie di problemi nel lasciare la vecchia legge fondamentale e il carico di colpibolezze a prescindere e ci porta davanti a una realtà diversa, il codice della crisi dove i nostri giudici dovranno applicare strumenti, istituti e categorie nuove per certi versi inesplorate. L'attenzione dovrà essere focalizzata sui ruoli e sulle responsabilità degli organi sociali delle imprese. Questo è fondamentale perché soltanto dalla consapevolezza dei compiti degli obblighi sarà possibile predisporre le nuove regole che dovranno essere applicate. Quindi io ringrazio tutti, non vi tolgo altro tempo e vi saluto. Siamo per i saluti l'Avvocato Sergio Gandhi, Vice-Sindaco del Comune di Berga. Bene, è un grande piacere e vi volto il suo abito del sindaco dell'amministrazione comunale e di sincero ringraziamento all'ordine dei tuttori commercialisti ed esperti contabili di Berga e dal suo presidente Cescone Letta e dal presidente del comitato scientifico signor Romonelli per aver organizzato una volta di più questo convegno di assoluto prestigio per scegliendo la nostra città, per farlo. Vedo la presenza di tanti industriali datori oltre tanti colleghi e tanti professionisti della nostra città e di fatto di ogni provenienza. E a tutti voglio dare il benvenuto appunto nella nostra città, attendendo con interesse di ascoltare le relazioni su temi di stretta attualità legate all'impresa e alla sua crisi. Crisi è una parola difficile, beh che però non ci faccia piacere, è sempre tempo di crisi. Dal decorso di una malattia alla fine di un governo, cosa peraltro di strettissima attualità, anche se il governo stanno scegliere, da una fase di turbamento psicologico alla ciclica di stabilità del sistema economico, la crisi è nei nostri discorsi o al non presente. Siamo abituati quindi ad attribuire al tempo della crisi un'accezione negativa, rappresenta un momento certamente duro, spiacevole e ne faremo volentieri a meno. Ma ciò che la sua etimologia ci racconta è che la crisi al non momento è un momento di scelta, come sa chi è l'aspettato greco ma non, quindi decisione forte. L'etimologia della parola crisi ci suggerisce anche, quindi oltre alla contingente difficoltà, una prospettiva positiva, in quanto un momento di crisi, dunque di riflessione, qualitazione è in scelta, può trasformarsi in un più supposto necessario per un cambiamento e ci si acqua per un miglioramento. A voler ben guardare questa prospettiva in quale in cui il legislatore si è posto, nel definire tra mille difficoltà, incertezze e ritardi, la riforma di cui una volta di più occuperete nell'altro del convegno di questi due giorni. Il codice della crisi che legge, lo dico a me stesso, ma certamente a voi che avete competenze molto maggiori delle mie attraverso la ristrutturazione dell'impresa un'ottica di continuità aziendale che tra l'origine, grazie alla lettura di eventi passati e dei scenari futuri, diventa meccanismi di prevenzione delle condizioni in sua avvenza e di attuazione di interventi tempestivi capaci di rivolare da un lato e sanare poi lo stato di crisi. Quindi legge la crisi, valutare e scegliere quale soluzione adottare per garantire il superamento dell'impresa dell'AIDS. Di fatto viene messo in campo un nuovo modello di fare impresa che rende sostanzialmente obbligatorio dotarsi di quelle best practice che distinguono le aziende dotate agli strumenti di controllo da quelli più orientati alla ristrutturazione di interventi. Mi pare che il tema del vostro convegno è aperto appunto sulla capacità di lettura della crisi, sul conseguente obbligo di disposizione di versetti organizzativi che lo consentano e poi a partire da questo sui doveri di controllo e le conseguenti responsabilità e, eccoci, significato positivo di crisi, sulla scelta del mezzo più corretto ed efficace tra le persone giudiziali e negoziarie in caso estere o giudiziarie di soluzione della crisi. La prima sessione del convegno è dedicata in particolare al modellato articolo del 1986. Faccio riferimento a questo perché riguarda anche il mio mestiere di avvocato del lavoro. L'idegrato dalla riforma del secondo coma che, come noto, dicevo che anzi, descriveranno il Senato di un assetto di amministrativo e contabili, dono, la natura e la dimensione dell'azienda, in una prospettiva di prevenzione di una potenziale situazione di difficoltà di un senato di tutti gli strumenti necessari all'eventuale ricomposizione della crisi. Fatemi dire che questa scelta del legislatore, che è coerente con l'impianto generale della riforma, non è neutra. Non solo per diritto commerciale e concorsore, ma così è stato detto il corso del convegno annuale degli avvocati del lavoro che non si è richiesto qualche settimana fa, anche rispetto al diritto del lavoro. In un stato rilevato, l'obbligo di dotarsi un assetto organizzativo comodo rispetto alla natura e dalle dimensioni dell'impresa comporta evidenti ricadute, in termini di ambienze di sindacato o di un'iniziale, sulle scelte di storia dell'imprenditore anche con riguardo al fattore l'anno proprio, che fino all'altro ieri, sindacato che fino all'altro ieri, era ritenuto previso il nome della libertà di impresa, eseguitato dall'articolo cronico come un primo problema della nostra Costituzione. I nostri nuovi doveri organizzativi posti in capo all'imprenditore rischiano invece di aprire la strada ad un'ulteriore, convasivo e vario di legittimità dell'operato imprenditoriale rispetto ai singoli atti di gestione del rapporto di lavoro, trasferimenti, modifiche delle nazioni, licenziamenti semplici e collettivi. Questo mutamento di scenario ha esiti imprevedibili e devo dire la verità a testa qualche preoccupazione insieme al mondo dei giudisti di lavoro. Ascolterò quindi con grande attenzione le imprevedazioni di questi mutati. Un'ultima prova consentitiva sulla splendida corno in circa 20 cento, meritoriamente, per questo problema. In effetti le finalità della riforma rispetto alle imprese in crisi non sono simili a quelle che hanno ispirato il restauro del teatro. Preservare un capitale economico sociale da un lato, storico, architettonico e culturale dall'altro, attraverso i necessari interventi di risanamento e di strutturazione e di necessari cambiamenti determinati dalla nuova condizione che un passimento ha determinato. Il successo del restauro del Donizetti che si deve in varga parte, un nostro collega già ricordato da Francesco Paganzi e Giorgio Vetti e i suoi collaboratori che hanno fatto uno straordinario lavoro, è il frutto di un lavoro procurato quasi tre anni, con il solo imprenditibile blocco causato dalla pandemia e con minime variazioni anche rispetto ai tempi rispetto al progetto originario. Costo a complessione di 19 milioni di euro, sostenuto in parte dagli articubici coinvolti, tra i quali anche il nostro comune, ma anche da un significativo apporto dei privati per oltre 9 milioni e mezzo. Ci sono stati 32.500 giorni di lavoro per quasi 260 mila euro complessive da parte di operai, tecnici e professionisti alternati. Il risultato è quello che vedete, lo sforzo prodotto ha generato appunto questo risultato grazie a una decennia impeccabile dal concorso di tutti i soggetti coinvolti. E la dimostrazione, intorno al titolo del nostro convegno, di quanto la governance, i controlli posti in essere da soggetti deputati e le responsabilità che ciascuno si assume, siano non solo nelle prese in crisi determinanti e per il consigliamento di risultati positivi. Buon lavoro a tutti e più. passiamo in saluti della professoressa Maria Francesca Sicilia, prorettore dell'Università degli Studi di Bergamo. Buongiorno a tutti e a tutte. È davvero difficile parlare da questa posizione perché chiaramente non si vede in pubblico ed è sempre bello vedere i vostri occhi, oggi mi immagino particolarmente ansiosi di aspettare gli importanti relatori che parteciperanno e intrapportano durante questo interessantissimo convegno che è stato organizzato da parte dell'ordine dei tuttori commercialisti e degli esperti contabili di Bergamo, per il quale ovviamente grazie in primis il dottor Ciletti e Simone. Io oggi sono qui a portare i saluti del nostro magnifico lettore, il professor Sergio Cavalieri che si scusa per non aver partecipato oggi ma purtroppo è impegnato a questo risultato che hanno raggiunto altri impegni. Per me è un piacere e anche una condizione essere oggi qui con voi ad ascoltare le vostre relazioni su un tema evidentemente di altissima importanza e che richiede approfondimento e riflessione secondo una prospettiva multidimensionale che non può essere affrontato solo da un punto di vista ma richiede di… è complesso e quindi con tutte le cose complesse richiede prospettive multiple per poter di fatto arrivare ad avere una pautura completa del tempo. Ovviamente l'Università è molto contenta di aver dato il patrocinio a questo evento perché è un evento che si pone in continuità con il nostro lavoro, che va nella prospettiva di fatto quello che viene definito dell'apprendimento continuo, quindi non si finisce di studiare diciamo all'Università ma è un apprendimento che deve essere collettivato nel tempo. Quindi questi eventi sono molto importanti, l'Università li supporta, vanno proprio nella direzione da noi auspicata e soprattutto diciamo che siamo contenti di attraverso questo patrocinio di consolidare quella che è una relazione ormai di lunga data con l'Ordine dei Dottori Commercialisti relazione che speriamo si possa ulteriormente consolidare nel tempo e che sia fuori era di crescita reciproca e di valore condiviso, quindi di valore generato per la collettività e per tutti i loro che fanno parte della comunità universitaria e della comunità dell'Ordine dei Dottori Commercialisti. Non vi rungo altro tempo perché ho visto che avete un'agenda molto fitta di impegni e auguro a voi un fructuoso convegno, quindi buon convegno a tutti e a tutti voi. Siamo la dottoressa Paola Esposito, segretaria generale della Camera di Commercio di Vello. Grazie. Un breve saluto davvero un breve anche da parte della Camera di Commercio, come dicevo a Simone e al presente Genelletti sostituisco queste enti mazzolini che a mia disposizione oggi non riesce a essere qui con una rammare ma come volevamo fare mancare l'attenzione a questo evento in questa sede, in cui l'abbiamo risposta di recente per la premazione di fedeltà del lavoro qualche settimana fa, è sempre molto emozionante. un evento per cui davvero ringraziamo gli ordini commercialisti. Presidente Simone che ha pensato dall'inizio di un concorso di normativo sulla presa di impresa che ci accompagna più oramai nel mese di dittore con un appuntamento fisso. Due considerazioni molto veloci dal nostro punto di vista dell'osservatorio della Camera di Commercio per cui ovviamente osserva gli emozioni per la situazione economica del territorio. Due crisi, come già ci è stato detto, ci stanno accompagnate in questi due anni, soprattutto la prima particolarmente inaspettata, da un punto di vista, diciamo così, la sanità ha un impatto superato ma dal punto di vista economico non ancora, è tutto perché se si pensa soltanto alla Cina, l'introduzione che la produzione ancora sta subendo in questo paese, il punto di vista del valore che ci legano appunto alla Cina, ancora sul nostro sistema paese ci sono implicazioni legate alla pandemia e poi evidentemente la grave crisi geopolitica causata dalla guerra qui alle porte dell'Europa in carico oggettici da spirale, quindi alzio dei prezzi che evidentemente stanno tendendo c'è anche la nostra impresa. I dati ci dicono che il PIB del 2022 si chiederà esattivamente ancora con un 3,5%, quindi probabilmente gli effetti di quello che sta accadendo li sentiremo tutti nel 2023 con il prossimo lotteo se no in territorio negativo. Questo ci fa pensare che anche in fondo il PMR e il contratto fatica stiamo cercando di sfruttare non saranno sufficienti a evitare una fase eccessiva, questo è l'aspetto diciamo più dedicato. Per venire quindi velocemente alla questione tra questo tema importantissimo in questo giorno, cioè con la crisi delle imprese che noi stiamo effettivamente toccando con mano da tempo, ecco che questa conversione ci spiega l'importanza cruciale e scientifica ma anche legata all'economia reale che questo evento ormai senz'altro rappresenta. Le camere sono chiamate in generale a sostenere e accompagnare il sviluppo economico dei territori, quindi le nostre funzioni sono evidentemente ad ampio raggio su questi specifici aspetti, siamo chiamati ad accompagnare le imprese in momenti formativi o informativi che è possibile condivisi anche con i professionisti in realtà che sono qui evidentemente riunite in questo teatro e quindi anche sulla materia della vis di impresa è importante fornire, ecco soprattutto alle imprese piccole, delle strutturate, gli strumenti necessari per fare bene l'impresa e comprendere sicuramente i segnali negativi. e il legislatore ci ha affidato, come ben noto, lo strumento della composizione negoziata che è comunque in una fase ancora molto molto delicata e difficile, per me 400 istanze depositate presso le nostre camere di commercio e il cannello, tutto il paese dimostra come può essere istituto, non mostra signi di decodo di successo, la prevenzione e la fase del controllo e dell'allerta sono sicuramente molto prima, da posizionare molto prima dentro le imprese con il supporto di ordine di controllo professionali e competenti che giustamente voi rappresentate. Quindi davvero un saluto e un ringraziamento perché tutti coloro che sono qui oggi a vario titolo hanno il ruolo di responsabilità del giudizio e naturalmente a sostenere i nostri sistemi. Quindi grazie Simone e grazie a tutti. Come vorrei saluto la dottoressa Giovanna Renoperati, presidente di Confindustria Bernalò. Bene, buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, come si dice oggi, e con piacere che sono qui a portare i saluti di tutta Confindustria in questo importante convegno dell'ordine dei dottori commercialisti. Ci sono più ragioni che mi rendono contenta di essere qui. Primo il fatto di salutare Simona Volumelli, la vostra ex presidente, che oggi è presidente della Lube, dell'Associazione Laureato Università di Bergamo, lasciarne lo dire, che ha preso il testimone appunto da me e che sta svolgendo questo compito con la consulità qualità e impegno. E lasciando un piccolo spot, invito tutti i lavoratori all'Università di Bergamo a farne parte perché portare testimonianza di un'appartenenza alla nostra università è un valore, credo, fondamentale. Cosa sarebbe Bergamo senza i 23 mila studenti che oggi frequentano la nostra università? Prima appunto ne abbiamo avuto testimonianza e come farebbero le nostre imprese senza questa importantissima fonte di persone preparate così come i vostri studi del resto non svolge la propria attività. Quindi permettetemi questo. Saluto naturalmente anche Francesco Genelletti, il presidente che ho avuto modo di conoscere e al quale auguro di fare un grandissimo lavoro in un momento che so benissimo non essere facile. Tra i commercialisti, i dottori commercialisti c'è un legame strettissimo evidente per una ragione particolare che è quella che si dice da sempre ma credo validissima ancora oggi il commercialista è il primo confessore dell'impresa. Quindi se questo è vero non può che essere necessario che tra la casa dell'impresa e i loro più intimi confessori o figure con le quali si confrontano ci sia un legame stretto, fecondo e profitto. E non è solo una questione tecnica, spesso è quanto prima è ancora più una questione umana e quindi di rapporti e di relazioni. Su questo si basano molto spesso gli scenari poi futuri di sviluppo non tanto e solo sulle normative a controllo. Infine naturalmente entro nel merito del tema che in questi giorni andate ad affrontare importantissimo. È ovvio che i tempi sono stati infiniti l'iter per arrivare a oggi è stato lunghissimo e qua forse un riferimento ai tempi della politica che non sono correnti con lo scenario nel quale le imprese operano, va fatto. E quindi forse anche un appello alle riforme strutturali forse un rigo da questo punto di vista perché davvero i ritmi e tempi siamo sempre più veloci. Abbiamo parlato nel 2019 in convegno di questa normativa, siamo nel 2022. Ad ogni modo, critiche a parte è sicuramente uno strumento fondamentale. Prima di tutto per svecchiare naturalmente l'approccio della legge fondamentale e poi per andare nella direzione di queste due parole chiave che sono continuità di impresa. In termini squisitamente giuridici e tecnici la continuità di impresa è pregiudicata dall'insolvenza e quando scattano i presupposti la nuova normativa sebbene applicata diventa uno strumento fondamentale per le aziende per aiutarli ad elaborare le proprie strategie. Adottare un approccio che sicuramente è più programmatico di quanto lo spesso si faccia e mettere mano anche ad adempimenti che più stringenti che in passato riguardano non solo questioni amministrative, finanziarie e contabili ma soprattutto organizzative e direi anche un po' per deformazione professionale anche di sguardo sul mercato perché alla fine poter orientare un'azienda nella direzione di futuro significa anche conoscere il contesto nel quale questa azienda è inserita e questo tema non è banale. Quindi sicuramente abbiamo un incentivo implicito a irrobustire la struttura organizzativa e di comando delle imprese e soprattutto le piccole e le medie. E poi naturalmente appunto ritorno sul tema della continuità di impresa perché è anche un principio che ha ispirato il mio programma di mandato come Presidente di Comunistria a Bergamo perché credo che si traduca nella parola sostenibilità dentro questi grandi tre lettere ISG ci sta la continuità il risk management cioè il fatto di essere continuamente attenti al futuro per poter poi essere in grado di programmare meglio la propria azienda addirittura ho dato una deline su questo tema nuova alla governance perché ritengo che sia un tema fondamentale da tenere sotto controllo. Quindi nuove responsabilità nuovi impegni per le imprese e soprattutto nuove responsabilità per voi commercialisti che in questa partita giocate una parte fondamentale e vi prendete naturalmente carico di questa responsabilità andando ad allargare molto di più il campo delle vostre delle vostre attività all'interno delle imprese non più è tanto solo un controllo e una verifica di dati che sono già accaduti ma veramente un lavoro di progettualità di programmazione di strategia che richiede un nuovo e anche più appassionante credo affascinante lavoro per il vostro mestiere. I tempi sono e vado a concludere incerti chiunque stia facendo previsioni oggi non sa veramente quale possa essere l'esito delle proprie azioni al punto che non tanto solo gli imprenditori ma anche gli analisti anticipano le loro previsioni dicendo se la pandemia resta se la guerra continua se l'inflazione non scende accade questo ma tutti questi se incrociati naturalmente creano complessità serie nel capire il peso delle scelte per questo è fondamentale quantomeno attivare tutto quel che si può quel flusso continuo di informazioni di dati di numeri di conoscenze che possono permettere alle imprese di prendere decisioni più consapevoli un po' più consapevoli e questo è un mestiere che richiede ritmi diversi e non risponde alle logiche dei tempi dei bilanci puntuali e regolose richiede un modo di lavorare che va innovato e rinnovato anche nei tempi e nelle modalità di interfacciarsi con le imprese vado davvero vado davvero a concludere abbiamo quindi in questo momento bisogno sicuramente di imprenditori lucidi ai quali non togliere l'intuito che è una forza eccezionale ma da moderare con una dose importante di come dire di informazione ma abbiamo bisogno di professionisti con i quali possiamo possiamo confrontarci cogliere il progetto dell'impresa prendersene carico e portare appunto tutte quelle quella quantità e qualità di informazioni che permettono la previsione con una consapevolezza e vado davvero a chiudere che sicuramente la continuità d'impresa è un obiettivo ma ancora di più lo è l'aumento di valore delle nostre aziende che è il vero bisogno del nostro sistema economico e del nostro territorio vi ringrazio e vi auguro un buon lavoro direi di partire immediatamente chiamo Monsignor Giulio della Vente segretario generale della Puglia Vescovini di Belenco che apre il lavoro con un boss per un nuovo rinascimento Buongiorno a tutti per una mente grande niente è piccolo sono parole di Sherlock Holmes in un aneddoto che lo riguarda si racconta che il geniale investigatore fosse in vacanza in cappeggio durante la notte svegliò il fidato compagno Watson guardate il cielo e ditemi cosa vedete vedo una meraviglia di stelle lucenti Orms e cosa vedete il cielo? dal punto di vista astronomico penso che ci sono nel cielo milioni di galassie e quindi potenzialmente miliardi di pianeti dal punto di vista astrologico vedo che Saturno è in Leone da un punto di vista orario calcolando la posizione della lunata rispetto alla stella polare vedete proprio che sono le 3 e 15 da un punto di vista meteorologico direi che domani avremo una bellissima giornata limpida da un punto di vista teologico contemplo l'infinita potenza di Dio e merito quanto noi siamo piccole creature olt rimase un attimo in silenzio e poi sbottò Watson siete un idiota dal punto di vista pratico se vediamo le stelle qualcuno ci ha rubato la tenda ci hanno rubato la tenda dobbiamo partire da qui per essere boss ed esserlo per un nuovo rinascimento prima è stata la crisi finanziaria poi la pandemia poi la guerra con le implicazioni atroce su materie prime e prezzi dell'energia siamo passati in due anni da andrà tutto bene a andrà tutto all'energia un nuovo rinascimento è possibile solo partendo da un nuovo umanismo pensarsi come boss quindi e fare la scelta coraggiosa e sfidante di passare dall'immaginario dell'essere colui che fa di conto o colui o colei col quale bisogna fare i conti ad una nuova proposta di figura professionale che conta è un'altra dimensione non è più questione di erogare un servizio su misura mettendo toppe augenze e esigenze surfando tra scadenze e normative è qualcosa di più persino del richiesto salto di plasmarsi come agenzia di servizi attraverso una rete di specialisti interdisciplinari nel complesso e complicato spesso complessato sistema legislativo e tecnologico più o meno digitalizzato proprio perché ci hanno rubato la tenda il boss è chi prende in mano la situazione l'attualità del villaggio globale ci dice che chi è così viene definito influencer il professionista che conta diventa in pratica influencer perché aiuta non solo a far quadrare i conti per non dare i numeri ma per prendere in mano e far comprendere che la somma totale in una crisi di impresa non è data solo dalla rilevazione dei dati ma soprattutto dall'interpretazione dei processi e dalla rivelazione dei dati all'interpretazione dei processi c'è uno scarto qualitativo notevole e lo sguardo complessivo sulla realtà con tutte le sue sfide che siano crisi o opportunità due facce comunque della stessa negativa questo è possibile solo a partire da un umanesimo che considera non solo i bilanci ma le persone certo va di moda a parlare di capitale umano ma mi sembra sia sempre sottovalutato il fattore che io chiamo capitale inumano spesso chi si licenzia va via dall'azienda non va via dall'azienda ma va via dal capo e dai colleghi va via dal clima dell'azienda ricordiamoci sempre però che quando le grandi navi affondano sono sempre le piccole scialuppe a salvare la gente il professionista contabile il professionista che conta in una situazione senza tenda come quella attuale dove rischiamo di vedere le stelle per le batoste che prendiamo può scegliere se essere l'orchestrale che suona sul ponte mentre il titanico affonda oppure essere un influencer con la logica del boss che declina così di di bilanciare o di osservare essere di sintonizzare essere di supportare sono gli stessi elementi che va di moda cercare nella economia circolare spesso ridotta un modaiolo codice etico in evidenza sul sito ma meno rintracciabile nella realtà nonostante poliedrici eventi aziendali B di bilanciare bilanciare tradizione e innovazione piedi per terra e testa visionaria patriarcato valoriale e ristrutturazione menageriale bilanciare singolarità identitaria e pluralità interdisciplinare bilanciare digitalizzazione e artigianalità sartoriale ma bilanciare è anche e soprattutto una dinamica relazionale perché con i fuori classe si vincono le partite ma solo in squadra si vincono i campionati non importa quanto brillante sia la tua mente o la tua strategia se giochi da solo perderai sempre contro una squadra insegna Reid Hoffman fondatore di LinkedIn quindi o di osservare se definisci te stesso e i tuoi clienti in base a ciò che ti differenzia dai competitor sei nei guai osservare e essere convinti che se i problemi non finiscono mai neanche le soluzioni finiscono se però tu non sei parte della soluzione vuol solo dire che sei parte del problema non c'è alternativa quindi se non siete disposti a rischiare il solito dovrete accontentarvi dell'ordinario insegnava John Roth boss è chi invece osservando la realtà sa che può sempre trovare come fare la differenza e la differenza si fa con la S di sintonizzare nel medioevo alla bate Bernardo di Chartres fu chiesto il segreto dell'espandersi delle abbazie serre da cui poi vennero i semi culturali non solo religiosi per un umanesimo e quindi per il rinascimento la risposta fu capire di essere nani sulle spalle dei giganti essere nano sulle spalle di un gigante permette di vedere più lontano permette di vedere non solo altro ma di vedere oltre così si fa crescere ulteriormente il gigante si può vedere ancora oltre però solo rimanendo nani si può stare e rimanere ed essere portati sulle spalle dal gigante azionando un circolo virtuoso di miglioramento perché se il nano diventa obeso pensando di essere capace lui di fare tutto per il gigante cade nella sindrome della mosca cavallina tipica di chi si crede bravo fantino perché salta continuamente da una parte all'altra su diverse criniere svolazzanti mentre il cavallo galoppa a tutta velocità per conto suo finendo in più delle volte in un burrone mentre la mosca vola via da un'altra parte spesso però appoggiandosi su cose che qui non posso dire nel 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 1950 Deming stigmatizza il ciclo del miglioramento continuo plan do check act la norma ISO 2015 denominata l le destructure for management system standards lo modifica introducendo un fulcro che si collega a ciascuno degli elementi precedenti e li lega la leadership e il mettere al centro se stessi come boss di un capitale inumano per sintonizzare è la logica che mio nonno mi insegnava che era la logica della ruota della bicicletta il cerchione collega i raggi se si prova ad avvicinarmi sforzando spostamenti dove c'è il cerchione i raggi si rompono e la ruota si storta invece se si va verso l'inverno i raggi si ritrovano già uniti passare dallo sforzo del cerchione che si consuma tenendo insieme a portare al centro e tendere al fulcro senza presumere di essere il fulcro è il compito del contabile cioè di chi conta davvero come con la essere di supportare supportare non è sopportare sopportare è mettersi in difesa supportare è lanciarsi in attacco sopportare è passivo supportare è attivo è portare su attraverso tre dinamiche che coesistono come cerchi concentrici si porta su si supporta ciò che è a terra e va rialzato perché chi è davvero forte non è chi schiaccia ma chi riesce a risolvere poi quando è su si supporta si porta su per sostenere in equilibrio e per in robustito e poi terza dimensione una volta stabilizzato si può supportare portare su ad un livello superiore azionandosi appunto come influencer per alzare la sticella qualitativa Papa Francesco parlando a Confindustria il 12 settembre scorso ha detto una delle gravi crisi del nostro tempo è la perdita di contatto col lavoro diventando grandi la vita trascorre in uffici riunioni viaggi conveni e non si frequentano più le officine in fabbriche si dimentica l'odore del lavoro se è vero che l'imprenditore che il lavoratore dipende dai suoi imprenditori e dirigenti è anche vero che l'imprenditore dipende dai suoi lavoratori dalla loro creatività dal loro cuore e dalla loro anima possiamo dire che molto dipende dal capitale spirituale quindi per essere forza per essere influencer di un nuovo umanismo che aziona un nuovo rinascimento per essere persone che contano e non solo che fanno il conto per essere professionisti che hanno i numeri e non solo fanno i numeri o peggio danno i numeri serve coraggio parola abusata di cui però si dimentica la radice che è ancora avere avere cuore avere un capitale in umano un capitale spirituale che è quello che fa investire nella B di bilanciare nella O di osservare nella S di sintonizzare e nella essere e supportare questo perché per una mente grande niente è piccolo così per me si può ritrovare la tenta rubata grazie grazie